Grazie. Grazie a tutti. Spesso anche forse solo un po' di più di azioni a livello di public relations. Quindi questa è la domanda. Qual è l'impatto concreto di questi accordi transnazionali? E comincerei anche questa volta con James Ritchie. Prego. Grazie. Penso che, mettendola in termini semplici, gli accordi internazionali o gli accordi con le multinazionali su base globale dovrebbero promuovere e proteggere i diritti dei lavoratori per le persone ovunque l'azienda operi e devono portare a più affiliati ai sindacati. È semplice da capire. Per molte aziende avere un accordo internazionale o un'altra relazione con una federazione globale vuol dire che prendono la scatola della responsabilità sociale aziendale. Quindi quando le ONG glielo chiedono dicono sì, sì, noi abbiamo una relazione con i sindacati a livello internazionale e dicono così. Quindi per loro è un punto di arrivo, per noi è un punto di partenza avere una forma per risolvere le controversie a livello sindacale e l'inizio di avere il rispetto di questi diritti. Se noi parliamo con la sede centrale dell'azienda abbiamo un problema qui, il lavoratore non riesce ad esercitare sui diritti e possiamo fare tantissimi esempi ma recentemente negli ultimi 12-13 mesi abbiamo avuto un accordo quadro con la Sodexo l'azienda di catering a livello mondiale e l'accordo quadro non solo afferma che i lavoratori hanno dei diritti ma stabilisce anche dei processi attraverso i quali i lavoratori possono avere accesso ai sindacati e negoziare collettivamente. Per l'azienda è stato uno shock scoprire che noi intendiamo organizzarci e dare a quei lavoratori quei diritti in India. adesso la Sodexo ha il suo secondo mercato più grande in India e adesso c'è un'organizzazione sindacale in India i manager locali non hanno sentito parlare dell'accordo globale firmato a Parigi ma a meno che non diano ai lavoratori il diritto di organizzarsi di negoziare collettivamente e di migliorare i loro salari e le loro condizioni quindi l'accordo quadro è una perdita di tempo per quanto riguarda la UF. D'altra parte se facilita l'accesso dei lavoratori alla negoziazione con lei e alla contrattazione collettiva e esercitare i loro doveri questo è un tema molto importante e è diciamo un fine però non lo è per quanto riguarda la federazione internazionale grazie La domanda è perfetta qual è l'impatto concreto di questi accordi? Penso che l'impatto di questi accordi possa essere considerevole la prima cosa da dire e notare è che quando firmiamo questi accordi a livello globale l'obiettivo primario dell'accordo globale è creare uno spazio sicuro per far sì che i sindacati comincino a organizzare i lavoratori questo deve essere il fattore più importante creare uno spazio dove i lavoratori possono organizzarsi in sindacati senza aver paura della persecuzione o avere paura di niente perché nonostante in alcuni paesi ci siano delle buone leggi questo è il rischio la seconda cosa che direi è che noi stiamo trovando sempre maggiori difficoltà anche a livello europeo firmare accordi multinazionali con le aziende e una delle ragioni per tutto questo e questo è successo recentemente con il settore dell'abbigliamento le aziende si preoccupano che se firmano un accordo saranno tenuti legalmente responsabili beh sì ovviamente questo è un obiettivo cioè rendere le aziende responsabili quindi se loro non rispettano il diritto di organizzarsi in sindacato questo è il rischio ma un altro obiettivo è far sì che le aziende firmino degli accordi formali e che capiscano l'ambito di questi accordi noi dobbiamo persuadere le multinazionali che c'è un valore nel firmare un accordo globale ma noi dobbiamo utilizzare questo potere a livello del movimento sindacale per dimostrare che noi abbiamo il peso dei lavoratori dietro di noi e che noi intendiamo utilizzare questi accordi globali per essere d'aiuto a ridurre i rischi che i lavoratori si trovano di fronte per esempio con la storia del Bangladesh possiamo utilizzare molte organizzazioni sindacali europee e nazionali all'interno del contesto europeo perché queste aziende multinazionali a livello nazionale dicono che il vostro marchio è stato danneggiato in Europa perché voi non state proteggendo i diritti dei lavoratori in altri paesi se c'è un accordo globale che protegge i diritti di tutti i lavoratori potete utilizzarlo in un contesto globale mi fermerò qui vorrei soltanto dire questo a volte gli accordi globali devono essere rinegoziati e l'abbiamo fatto recentemente con Securitas e Carrefour perché a volte quando questi accordi globali non si dimostrano efficaci dobbiamo avere il coraggio di dire che non funzionano dobbiamo avere il coraggio di dire che devono essere revisionati e dobbiamo riscrivere questi accordi ed è questo quello che abbiamo fatto con Securitas e Carrefour recentemente Ok, grazie mille quindi io a questo punto chiederei a Denis lui ha già menzionato nel suo primo intervento che stanno cercando di applicare dei accordi globali e quindi gli chiederei hanno avuto un qualche impatto nel loro contesto? posso dire che in alcune aziende che hanno accordi globali tutto questo è stato d'aiuto negli accordi globali nel contributo con le relazioni tra i sindacati e le aziende e posso dare alcuni esempi per la Turchia l'alleanza Carrefour ha aiutato i sindacati ad organizzare altre aziende a livello nazionale quindi con questo tipo di contributo ma in alcune aziende questi accordi quadro globali non esistono il management locale, non riconosce e non rispetta questi accordi posso anche darvi l'esempio di H&M che ha un accordo globale con l'Uni ma non rispettano i sindacati, non si possono organizzare i lavoratori in Turchia e la Securitas, come è stato detto prima hanno anche loro gli accordi quadro globali per quanto riguarda la Securitas ci sono dei questionari quando si fa il colloquio di lavoro quando i lavoratori fanno un colloquio e la domanda che viene fatta nei questionari è sei affiliato a qualche sindacato? questo è un altro esempio la DHL ha un accordo con l'Uni e penso che l'accordo quadro globale sia utile in questa situazione grazie grazie Denise quindi erano osservazioni anche piuttosto critiche e quindi a questo punto chiederei a Luca com'è la situazione da un punto di vista europeo ma dunque prima Franco Martini diceva giustamente che spesso noi alle multinazionali li facciamo soltanto il solletico il che è assolutamente vero però bisogna anche dire che ci sono situazioni diverse noi abbiamo avuto un seminario come Confederazione Europea in Polonia qualche settimana fa e i colleghi polacchi ci hanno portato due casi completamente diversi quello della Volkswagen dove dopo grandissime difficoltà il sindacato polacco è riuscito a far applicare alla Volkswagen gli stessi criteri non esattamente le stesse condizioni ma gli stessi criteri di condizioni di lavoro persino rispetto al salario che si applicano in Germania dall'altra parte invece l'esempio di aziende del settore delle telecomunicazioni dove nonostante l'esistenza di accordi internazionali o europei questi accordi non vengono applicati dal management locale di quelle imprese questo dipende ovviamente anche dalla forza del sindacato non soltanto dalla buona volontà delle imprese e questa forza del sindacato è variabile tra paese e paese e all'interno dello stesso paese a seconda dei settori le due cose che noi dobbiamo fare parlo almeno per il livello europeo per cercare di risolvere questo problema e per sfruttare a pieno le potenzialità di questi accordi transnazionali per cercare di fare più che il solletico alle imprese da un lato è di rafforzare la nostra capacità di contrattazione collettiva e di applicabilità degli accordi guardate l'unico modo per fare questo è che le federazioni nazionali tentino il più possibile da un lato di rafforzare la loro rappresentanza dentro le multinazionali e dall'altra parte però devono dare un mandato chiaro e preciso alle federazioni europee e internazionali perché senza questo mandato le federazioni europee e internazionali non hanno nessuna possibilità reale di influenzare questi processi questo nazionalismo che sta venendo fuori a causa della crisi purtroppo esiste anche all'interno del movimento sindacale perché molto spesso noi ci ripieghiamo sui nostri problemi nazionali e non c'è la capacità o la volontà di spostare l'attenzione verso il livello internazionale l'altro elemento è che noi almeno a livello europeo abbiamo bisogno di un quadro giuridico per dare un fondamento giuridico agli accordi e per renderli realmente applicabili in tutti i paesi noi stiamo sviluppando su mandato dalle federazioni europee una trattativa con la commissione europea per cercare di arrivare a questo quadro giuridico dovete sapere che gli imprenditori le organizzazioni imprenditoriali non ne vogliono sapere di costruire un quadro giuridico opzionale a livello europeo l'unica possibilità che noi abbiamo per raggiungere questo risultato è agire sul Parlamento europeo da un lato ma sui governi nazionali e sulle imprese multinazionali e sulle organizzazioni di settore degli imprenditori perché se noi parliamo con Business Europe l'organizzazione confederale non avremo nessuna possibilità di raggiungere questo risultato questo significa e concludo che il vostro ruolo come federazioni nazionali di settore è fondamentale perché voi potete influenzare la posizione delle organizzazioni settoriali degli imprenditori ma anche la posizione dei rispettivi governi in questa discussione a livello europeo perché la Commissione insieme al sindacato a livello europeo da soli non riusciranno a risolvere questo problema c'è bisogno che dal basso dai paesi dalle aziende dalle organizzazioni sindacali nazionali venga una forte spinta per riuscire a raggiungere un cambiamento reale in questo settore grazie Luca e do subito la parola aggiungo al volo due considerazioni a quelle che ha fatto Luca che condivido interamente le cose che ha detto primo ulteriore ingrediente il valore di questa dimensione della contrattazione globale degli accordi transnazionali deve entrare nella testa innanzitutto delle nostre organizzazioni nella testa del sindacato abbiamo bisogno di contaminazione di conoscenza di contagiarci abbiamo bisogno della consapevolezza del valore di questa dimensione quindi in primo luogo è una grande operazione culturale di cultura sindacale che deve andare avanti ecco perché i progetti come questo ed un progetto di intervento più complessivo di formazione sindacale è fondamentale due la sperimentazione quanti ne ha contati 230 accordi della commissione siano quelli che siano siccome Luca giustamente parlava anche di esperienze timidamente positive allora individuiamo due tre quattro casi ulteriori e su questi casi cominciamo una sperimentazione dall'inizio in avanti come costruiamo l'accordo come lo gestiamo come lo facciamo applicare come vive nei vari paesi affinché poi si possa ragionare sui risultati della sperimentazione il tutto sotto un titolo per noi la multinazionale deve essere un'impresa fondata sulla libertà sindacale fondata sul diritto di ogni lavoratore e di ogni lavoratrice di riconoscersi e di farsi rappresentare da un sindacato il primo articolo di ogni accordo che dovremmo firmare grazie e quindi concludiamo con Fernando con osservazioni dal punto di vista del sindacato spagnolo grazie ci chiedi qual è il valore e l'impatto di questi accordi il valore potenziale è ovviamente molto grande l'impatto è invece limitato per lo meno fino adesso io credo che questo sia avvenuto per un motivo fondamentale anche se gli accordi quelli che esistono hanno una vocazione diciamo di attacco sono l'offensiva sono il frutto di una proposta dei movimenti sindacali nella maggior parte dei casi in realtà vanno a ovviare a debolezze nazionali mentre un accordo dovrebbe di questa natura dovrebbe nascere diciamo al contrario dovrebbe essere il frutto di una forza sindacale nazionale per lo meno in molti paesi quindi l'impatto è limitato tuttavia bisogna riconoscere che in una situazione molto concreta dove ci sono obiettivi chiari dove vengono impiegati i mezzi necessari a volte in circostanze molto precise per esempio come nel Bangladesh in quel caso sì ci sono buoni risultati abbiamo degli esempi positivi ci sono degli obblighi per esempio in Algeria è nato un sindacato così in Colombia è nato un sindacato per Carrefour e ha fatto un lavoro importantissimo su tutto il territorio dell'America Latina Carrefour ha una sua versione spagnola naturalmente ma in definitiva in determinate condizioni sono importanti questi accordi prima ho parlato di tutta una serie di strumenti di mezzi per raggiungere diciamo queste nostre alleanze e poter poi redigere questi accordi se ci riusciamo in maniera dinamica possono dare senz'altro dei risultati ma se lo facciamo meccanicamente burocraticamente non solo a livello internazionale ma anche a livello nazionale io credo che l'impatto sarà sicuramente limitato e continuerà essere tale grazie davvero tutti i relatori per essere stati così disciplinati nel rispettare i tempi quindi siamo siamo riusciti a concludere questa tavola rotonda grazie grazie